Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Che cos'ho tra le mani? Tra le mani ho una custodia impermeabile della Newware. A cosa serve? Molto semplice, serve a conservare le nostre SD durante le sessioni fotografiche. Molto semplice, inseriamo in questi slot le nostre SD o micro SD, chiudiamo e siamo sicuri e protetti che ciò che abbiamo fotografato non venga distrutto, perso o danneggiato. Però, come ho detto prima, impermeabili. Beh, io la domanda me la son fatta. Queste sono veramente impermeabili? Allora, sul fatto che siano veramente resistenti vi dico di sì, perché a me è caduta in due o tre occasioni e non si è danneggiata. Anzi, devo essere sincero, non si è fatta assolutamente niente. Infatti è plastica dura. Quindi sicuramente sono resistenti. Però c'è scritto impermeabili. E che facciamo? Proviamo? Perché io qua a fianco ho un boccale di birra, ovviamente riempito con dell'acqua, proprio per eseguire questo test. Quindi ragazzi, siccome fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, facciamo una cosa. Lo apriamo, togliamo la nostra SD, l'appoggiamo qua sul tavolo e al suo posto ci vado a mettere un pezzettino di carta. Chiudo e lo andiamo a immergere nell'acqua. Lo lasciamo circa un minutino. Nel mentre, due o tre cose voglio dirvi. Questi scatolini qua costano circa 10-15 euro, quindi una spesa direi più che abbordabile per chiunque. Ho visto in giro persone conservare l'SD in tasca, buttate nello zaino. Allora ragazzi, parliamoci chiaro. Abbiamo attrezzature da 1000-1500 euro, obiettivi da 800 euro e via dicendo. Non abbiamo 15 euro per salvare i nostri lavori. Quindi, secondo me, è un investimento che bisogna fare. Poi non volete comprare questa, ce ne sono altri tipi, altri modelli, dimensioni differenti, però acquistate qualcosa di simile. Anche perché, nell'ipotesi in cui l'SD si dovesse danneggiare e siete a fare un evento irripetibile, esempio, un matrimonio, cosa gli andate a dire? Cosa gli raccontate? Quindi, secondo me, è un investimento obbligatorio. Ok ragazzi, andiamo a vedere il risultato. Lo apriamo. E' incredibile ragazzi, è completamente asciutto. Significa che questo box della Newware da 10-15 euro è veramente impermeabile. Io non posso fare altro che consigliarvi di acquistarlo. Ragazzi, con questo è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!